la seconda forma di carburante dopo la visualizzazione è la fede incrollabile fede incrollabile significa quanto credi veramente che il tuo prodotto realizzi i risultati che afferma quanto credi realmente che il network marketing sia semplice e divertente quanto credi realmente che puoi guadagnare ciò che vuoi tu nel network marketing quanto credi a te a ciò che hai ascoltato nel piano di marketing nella formazione o quanto credi al parente di turno fede incrollabile significa chiedi a te stesso di chi mi fido se ti va ridai un occhio al video network marketing la fede incrollabile al canale youtube luciana network cambiamette